Quella del 28 ottobre al Teatro Flaiano di Pescara sarà una giornata ricca con magistrati, testimoni, scrittori, uomini del mondo della cultura e giornalisti che ricorderanno e parleranno di Paolo Borsillino, Giovanni Falcone, di tutti quei magistrati e uomini delle forze dell'ordine sostenitori della legalità, esempi della lotta contro Cosa Nostra e contro qualunque forma di ingiustizia. Sarà insomma un felice momento per riflettere sul fatto che la legalità è innanzitutto un luogo della coscienza collettiva. Non a caso anche quest'anno il premio nazionale Paolo Borsillino, giunto alla trentesima edizione, coinvolgerà le scuole superiori del territorio per ricordare che educare alla cultura delle regole e al senso di appartenenza alla comunità è tra i compiti affidati alla scuola. Oggi in prefettura c'è stata la presentazione dell'evento del 28 che il Rete 8 trasmetterà integralmente in diretta televisiva a partire dalle 10. Quattro le sezioni dei premi Legalità, Cultura, Educazione alla Legalità e Giornalismo. Tra i premiati anche il direttore della nostra emittente Carmine Perantuono. A presiedere il premio sarà il prefetto Luigi Sabina che ascoltiamo. Sabina, quando si rinnova l'appuntamento con questo premio possiamo dire che si rinnova anche il fresco profumo della libertà? Assolutamente sì, il premio viene svolto alla presenza delle scolaresche, quindi portare a contatto degli studenti, persone e personalità che loro hanno visto sui libri di storia o hanno visto, vedono sulla stampa quotidiana o sulle tv, metterli a contatto per ricordare a tutti il fresco profumo di libertà come diceva Paolo Bursellini e non invece il puzzo del compromesso. In quei tre o quattro mesi terribili del 1992 come li ricorda? Sono state giornate terribili perché ho conosciuto già da qualche anno i magistrati, soprattutto Giovanni Falcone, che poi sarebbero stati colpiti dalla strage, loro e i poliziotti che li scortavano il 23 maggio e il 19 luglio. Però c'è stato un grande dolore, ma anche l'esempio di una città, Palermo, di una nazione intera che si è ritrovata avanti ai suoi poliziotti e questo ti faceva sentire responsabile e si è riusciti, come tutti sanno, a dare da parte dei magistrati della procura di Palermo, di quella di Caltanisetta, dalla procura di Roma, da quella di Firenze a dare quelle risposte che hanno consentito di distruggere quella cosa nostra che tutti conoscevamo, che identificiamo nel capo Totorina.